ciao a tutti ragazzi oggi voglio presentare un confanetto particolare è una proposta di tucker film distribuita da cecchigori un confanetto che sembrava quasi essere un miraggio per noi ma che invece è arrivato grazie anche al kickstarter al quale io ho aderito una campagna kickstarter che si è chiusa più o meno verso la metà di novembre e ha fatto sì che questo confanetto arrivasse in tutti i negozi in realtà io credo che alla fine il kickstarter si sia rivelato solo ed esclusivamente un mero preordine che comunque ha dato a me e altre 300 persone la possibilità di acquistare il confanetto ad un prezzo inferiore un maestro giapponese che non credo abbia bisogno di tante presentazioni almeno per chi è appassionato di cinematografia asiatica e di cinema in generale per chi studia cinema non può prescindere da non conoscere ozu o comunque da non iniziare a conoscerlo e questo credo sia il miglior modo per conoscerlo attraverso questo confanetto che trovate disponibile sia in alta definizione che in bassa definizione i restauri sono stati effettuati da la casa giapponese che ora non vi pronuncio perché la mia pronuncia è veramente pessima lo scriverò sicuramente sotto al video e nella descrizione e nulla vi presento questo confanetto al suo interno oltre a sei film del grande maestro tra i suoi sei film più famosi trovate anche un libro con varie nozioni sul regista curato da come potete vedere giorgio placerani nulla vi presento il confanetto e spero di fare cosa gradita per chi è veramente appassionato di cinema ricordo che questo confanetto è da assolutamente acquistare e conservare nella propria collezione grazie a tutti a ragazzi cofanetto aperto al suo interno come vedete il gusto del sake tarda autunno buongiorno fiori di equinozio viaggio a tokyo e tarda primavera questo è il libro nel quale vi parlavo al suo interno troverete nozioni su ozu informazioni sul restauro troverete qualunque cosa possa essere di vostro interesse per apprezzare e conoscere ancora di più questo immenso e ripeto immenso regista di cinema non solo asiatico ma mondiale riconosciuto da tutti non solo dal sottoscritto vi faccio vedere al meglio il libro il libro il libro Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.